È stata la giornata dedicata al sopralluogo del RACIS a Regopiano, il raggruppamento carabinieri e investigazioni scientifiche. Obiettivo dell'intervento, l'esame sulla dinamica dell'urto che ha travolto il resort, la disposizione dei corpi rinvenuti e la rotazione dell'intera struttura a seguito dell'impatto. Nel frattempo si fa sempre più circostanziata la disamina del rischio valanghe sull'area. Il primo allarme infatti fu lanciato nel 1999 da una guida alpina, un verbale redatto dalla Commissione Comunale Valanghe di Farindola. Una commissione che si sciolse nel 2005 e nessun intervento in merito. Prima della denuncia però la Regione Abruzzo nel 1992 aveva istituito una legge regionale, la numero 47, dedicata alle norme per la previsione e prevenzione dei rischi valanga. Tra le aree a rischio compariva proprio Farindola. Furono stanziati 300 milioni per mezzo dei quali la Regione decise di redigere una carta del rischio valanghe. Il documento non fu mai approvato dall'ente ed oggi ci si interroga se quella carta avrebbe potuto evitare una catastrofe costata 29 vite. E proprio la legge regionale 1992 si trova ora all'attenzione del procuratore Cristina Tedeschini e del PM Andrea Papalia in un fascicolo che conta l'acquisizione di telefonate, sms, messaggi whatsapp, dichiarazioni rese dei testimoni ma che ancora non conta nessun indagato.